Lo schianto mortale sulla statale 16 in zona Siligate di ieri ha il tragico bilancio di due morti e cinque feriti di cui due in prognosi riservata. Alle 19 di ieri ai soccorritori che sono intervenuti nel tratto tra la Romagna e le Marche si è presentata una scena che ricordava più un attentato terroristico. Pezzi di lamiera sparsi in un raggio di oltre 100 metri, auto dilaniate, corpi riversi, senza vita sull'asfalto, feriti o è un uomo e due bambine sotto sciocchi in un'altra auto. Ma la tragica realtà è che si trattava invece di un frontale tra due auto avvenuto in un tratto a quattro corsie della statale già tristemente noto e dove nel 2007 persero la vita altre quattro giovani vite. Ieri invece sono morti sul colpo per la tremenda carambola dell'Audi A4 sulla quale si trovavano Giuseppe Troisi di 23 anni pesarese alla guida del mezzo e Juendixani di 20 anni di origini albanesi ma residente a Pesaro che si trovava nei sedili posteriori esattamente dietro di lui. Con loro due ragazze di 22 e 19 anni che per le conseguenze dell'urto hanno riportato lesioni in diverse parti del corpo ed un trauma cranico. Nell'altra auto, una Hyundai Kona che procedeva nel senso opposto di marcia, si trovavano a bordo un uomo di 72 anni di gradara e due gemellini di 8 anni. All'arrivo del personale del 118 per i due ragazzi non c'era più nulla da fare se non pietosamente stendere un lonzolo bianco sopra di loro, mentre i cinque feriti sono stati soccorsi, stabilizzati e portati all'ospedale di Pesaro dove si trovano tuttora ricoverati. Per il papà e due bambini che sono rimasti sempre coscienti, anche se sotto shock, le condizioni sono apparse gravi ma non in pericolo di vita. Il bollettino medico diramato oggi dalla direzione sanitaria del San Salvatore parla per la bambina di una frattura alla mandibola, mentre per il bambino di un trauma cranico commotivo e si trovano ricoverati nel reparto di pediatria, mentre il 71enne si trova in osservazione in medicina d'urgenza per un preomotorace e fratture costali multiple e tutti e tre non sono in prognosi riservata. Diversamente invece per le due ragazze che erano assieme nell'Audi A4 che si trovano nel reparto di terapia intensiva per un trauma cranico per le quali invece la prognosi resta riservata. Si stanno appurando ancora da parte della polizia locale di Pesaro le dinamiche dell'incidente, anche se il tragico frontale sembrerebbe essere stato provocato da un sorpasso in velocità dell'Audi A4 sulla quale viaggiavano i ragazzi di un furgone, un Ford Transit, con l'autista che purtroppo è stato testimone inerme della tragedia senza poter far nulla. La velocità ed il tratto in discesa poi hanno fatto il resto trasformando l'auto in una valanga impazzita che si è abbattuta sulla Hyundai Kona.